Come Miss Bocconi, assieme a CESVI a Mumbai, abbiamo sviluppato questa ricerca per cercare di capire quale fosse l'impatto della nuova normativa, il Company Sec 2013, sui gruppi multinazionali. Diciamo che il risultato principale è che effettivamente questa normativa ha aumentato non soltanto la quantità di progetti CSR che i gruppi multinazionali realizzano in India, ma soprattutto la qualità. Molta più trasparenza, molto più attenzione alla misura dei risultati finali verso i beneficiari locali e soprattutto collaborazione con NGO internazionali, la cui capacità di portare a termine un progetto è sicuramente molto più elevata e molto più forte rispetto a piccole realtà locali. Grazie a tutti.